... Ok, pronti. Attenzione, attenzione. Pronti per ricezione messaggio. Pronto. Pronti alla ricezione. Alfa. Sette. Otto. Novembre. Popstrad. Uno. Cinque. Due. Due. Capsula, qui è Oscar 11. Cominciamo adesso i controlli. Cooper, dobbiamo andarcene di qui. Attenzione, pronti alla ricezione messaggio. Pronti e in attesa. Codice Alfa, messaggio presidenziale. Ok, pronti a ricevere codice Alfa. Fase 1. Inserire codice di lancio. Roger. Prepararsi al lancio. Programma Tau Quebec Marina. Inserire codice di apertura. Restare in attesa. Codice apertura inserito. Attenzione. Inserire collegamento Marina. Inserito. Collegare comando Marina. Sì, qui è Oscar. Chiamo Marina, grazie. Chiudere al segnale. Pronti? Cinque. Cinque del segnale. Quattro. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.